Buona, noi giochiamo in casa. Come va? Siamo ospitati qui. Bevi il ghetto e il drogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti buttare dentro. Un po' di più. Eni, fai il laccio, fai il laccio. Andiamo. Subito, veloce, se lo puoi fare. Movimento, andiamo. Un po' di più. Non ti va il tiro, non puoi restare lì fermo. Veni, guarda qua. Veni qua. Grazie. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Vi manca la destra, vi manca la destra, vi manca la destra. vi manca la destra, vi manca la destra, vi manca la destra. Vi manca la destra. Vi manca la destra. Vi manca la destra. Vi manca la destra, vi manca la destra. Rosario, vi manca la destra. Guarda che è arrivata. Grazie. 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 Matteo, allargati. Matteo, largo! Si chiama stabilizzatore? Io giro il mano e lui gira così. Grazie. 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 Vieni qua, vieni qua. Matteo, vieni qua. Vai Fabi, vai Fabi. Ma tu hai notato quanto non parlo? Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. 10, 9 iso. Si pino. Ma che re T 그렇죠. Sì qui! Per l'olù qui? Per l'olù qui? Per l'olù qui? A questo come è che sarebbe? Non c'è sorrisino Non è andato, vai rinchi, ma c'è è sempre quasi solo sei a metà fra i due Ah, va tomare! Ah, va tomare! Gianlu! Gianlu! E poi questo qua, sai cos'è? Insegnamenti che hanno preso i primi due anni qua cioè non sorridere ai genitori eh! Guarda Fabiano, guarda Fabiano! Guarda Fabiano! Guarda Fabiano! Guarda Fabiano! Eccola Gio! Dai, Maggio! Le prende! Vai, Capello! Iscrivito! Vai, Roscio! Vai-Lang ieri! Vai! Esabro! Vai su, sei solo, vai su, vai su Vemico Venga, era libero la tua sinistra Fassi vedere, non tu Alessio Rientra Alessio, veloce Chiudi Gabo, Riccardo non c'è Gabriele, vieni a chiudere tu Vieni a raddoppiare, prendi il centrocampista Vieni a chiudere, vieni a chiudere Allargati, allargati Allargati Vieni a chiudere, vieni a chiudere Vieni a chiudere, vieni a chiudere Vieni a chiudere, vieni a chiudere Guarda che c'è, uno vai Vieni a chiudere, sei solo, ragiona Guardate! 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 Mamma mia! Guardate! 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 Guard va bene va bene non mollare allargati vieni indietro allargati vai bravo 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 vinto bravo entra giù dentro bravo 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 ragazzi se siete in tre dovete prendere questa palla ora 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 fatti vedere facchi la cena stasera valla a prendere riccardo valla a prendere dietro bravo bravi c'è una bambina in quattro bambina levate dalla marcatura alessio sei dietro l'avversario c'è sempre alessio in mezzo a simone gioca nello spazio simone resta dietro simone ancora simo simo dietro ok grazie vieni insieme dai 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 bravo 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 bro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.